Forse... premendo qui... Non ho attra... non ho attraversato mezzo mondo per arrendermi ora. Non ho attraversato mezzo, non ho attraversato mezzo. Ah! Il messaggio della città la dice di cercare una stanza segreta nella fortezza di Lembro. È lì che devo andare. È lì che devo andare. Qualcuno si è da provare. È lì che devo andare. 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 È lì che devo andare.